Finalmente vittoria! La primavera 3 dell'Avelino vince con il punteggio di 2-3 la sfida valida per la penultima giornata del Girona F. È stata una gara a dir poco pirotecnica contro il Foggia di Pavone. Al terzo è subito vantaggio per gli Irpini. Mocanu raccoglie un lungo lancio nelle tre veie e davanti a Mascolo in uscita non sbaglia. Al trenta dovesimo è raddoppio con l'attaccante dei Lupi che realizza su calcio di rigore. Nel secondo tempo il Foggia accorcia le distanze con Carella che, al termine di un'azione personale, entra in area di rigore ed un diagonale batte Petrone. Al cinquantacinquesimo è pareggio per i rossoneri. Errore incredibile in fase di disimpegno dell'Avelino e ne approfitta Carella che controlla la sfera in area e batte Petrone. Al cinquantottottesimo si riscaldano gli animi della partita dopo un'accesa discussione il direttore di gara Spelle Mocanu e Pumpa. Lupi di nuovo manti al sessantottesimo con un colpo di testa vincente del capitano biancoverde Menichino su cross preciso di Florio su calcio d'angolo. I Lupi tornano al successo dopo diverse giornate di assinenza e sale ad 11 punti in classifica. Cade invece la squadra di mister Pavone. I satanelli restano quarti con 14 punti in classifica.